Un saluto agli amici di Space Viola. È un weekend generalmente triste per la Fiorentina, ma per fortuna non è soltanto il giorno dopo Juve-Fiorentina 1-0, ma anche il giorno dopo Fiorentina-Primavera-Udinese 2-1. C'è allora una Viola che riesce a battere una squadra bianconera, ed è appunto la Primavera, che si porta a quarta in classifica, a meno tre dalla prima posizione, a meno uno dalla seconda. Adesso la classifica sorride e finalmente questa vittoria consente di trovare quella continuità che non ha mai contraddistinto i ragazzi d'Aquilani nel corso di questa stagione, nonostante il trofeo vinto, ovvero la Supercoppa. La prestazione generalmente è positiva da parte della squadra, è una vittoria ampiamente meritata, ma tutt'altro che scontata. Per quanto l'Udinese sia penultima in classifica, ben fuori dai ranghi di classifica generali, perché c'è un bel distacco anche con la zona play-out, in realtà i bianconi che hanno messo in scena un'ottima prestazione. Se la sono giocata fino alla fine, con un ottimo approccio, sicuramente migliore di quello della Fiorentina, infatti la Viola la sblocca probabilmente nel momento più difficile, dopo due o tre occasioni nitide per l'Udinese. Il primo gol arriva su situazione di calcio di punizione, Amatucci lo batte dal lato destro del campo, rimpallo in area e poi sbuca sul secondo palo, Lucchesi. Risponde l'Udinese a circa dieci minuti dalla fine del primo tempo, da calcio d'angolo, situazione di palla inattiva dove la Fiorentina ha sofferto terribilmente durante il corso del match, anche inutilmente, perché durante il secondo tempo, passato tutto in vantaggio, l'unica situazione in cui la Viola ha rischiato di subire un nuovo pareggio è proprio su situazioni di calcio d'angolo o calcio di punizione. Tornando all'1-1, è un calcio d'angolo che va verso la porta, allontanato e la butta dentro Cocetta. Risponde la Fiorentina a fine primo tempo con un gran gol, forse, del migliore in campo, che è Elion Tochi. Succede tutto nei primi 45 minuti, nel secondo tempo, ho già detto, l'unica situazione in cui è rischiato sono calci da fermo o calci piazzati, però la Fiorentina porta agevolmente a casa una vittoria e prosegue il suo cammino. Era importante vincere per trovare continuità, la Viola finalmente c'è riuscita e l'ha fatto, direi migliore in campo anche a Don Orem, visto il gol, indubbiamente Elion Tochi.